Buongiorno, benvenuto a tutti quanti i presenti per questa quarta conferenza stampa del Sinodo delle Chiese Metodiste Valdesi in corso a Torrepellice in provincia di Torino. Un saluto particolare va agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Bequite Evangelica che ci ascoltano e ci vedono in streaming in diretta e anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Voce della Speranza Firenze che invece ci porteranno in differita. Il titolo di questa conferenza stampa è Benedette Famiglie, un tema di attualità e anche diciamo così in contemporanea con la discussione sinodale perché proprio di questo si è discusso nell'aula in questi momenti. Ne parliamo con Paola Schendenbaum che è membro della Commissione Famiglia, Matrimonio, Coppie e Genitorialità, un nome molto complesso che dà l'idea di come si voglia affrontare l'argomento da più punti di vista ma che è semplificato, un nome che viene semplificato con Commissione Famiglie al plurale e già questo è significativo. E anche con la pastora Mirella Manocchio che è anche lei membro di questa Commissione Famiglie ma oltre a ciò è coordinatrice della Commissione Culto e Liturgia delle Chiese Battiste, Metodiste e Valdesi e come vedremo queste due commissioni sul tema della famiglia si intersecano in più punti. La Commissione Famiglie ha nel corso di questo anno redatto un documento che il sinodo ha appena ricevuto e inviato e deciso di inviare alle chiese per lo studio, un documento piuttosto corposo, insomma sono molte pagine e che è il primo documento di questo genere dopo quello uscito nel 1971 dalle aule sinodali concernente il matrimonio. Chiediamo allora a Paola Schellenbaum di descriverci questo documento, di indicare quali sono le sue caratteristiche maggiori punti qualificanti. Grazie, buongiorno a tutti e a tutte. Io innanzitutto ringrazio per questa opportunità di poter presentare, illustrare un pochino questo nuovo documento, questa bozza di nuovo documento che appunto come è stato ricordato verrà inviato alle chiese. Le chiese hanno già discusso larghe anticipazioni di questo documento, comunque dei documenti preparatori che hanno portato poi alla stesura di questo nuovo documento e quindi è già stato fatto un cammino insieme alle chiese ed è stato fatto un cammino anche insieme alla società civile, nel senso che in questi anni, da quando la commissione famiglie è stata istituita dalla tavola valdese, ha appunto lavorato in dialogo con altre realtà, insomma sia ecclesiastiche e sia appunto della società civile. Diciamo che la nostra commissione fin dall'inizio si è posta il problema di come riunire una riflessione molto articolata intorno a questi temi e che però voleva essere una riflessione comune intorno al dibattito che nelle nostre chiese da molti anni c'è, a partire dalla benedizione delle coppie dello stesso sesso, ma anche ad altre realtà che hanno riflettuto sul tema del matrimonio, in particolar modo sul tema dei matrimoni misti e sulla vita di coppia, sulla genitorialità e il punto saliente è il tentativo di allargare il nostro sguardo, allargare il nostro orizzonte allargando la tenda. Questa è una espressione che ritroviamo, è una espressione biblica, insomma un versetto biblico che ritroviamo in Isaia 54, versetto 2 ed è un appunto un versetto che mi è molto caro. Diciamo che due parole su come abbiamo lavorato in collaborazione però anche con altre commissioni, in particolar modo appunto con la commissione BMW, cioè Battista, Metodiste, Valdese, Culto e Liturgia, di cui poi vi parlerà la pastora Manocchio, che da anni appunto sta cercando di elaborare una nuova liturgia, in particolar modo sulla benedizione delle coppie che non si possono sposare, che non si sposano appunto civili e che quindi sono coppie unioni civili, diciamo. Diciamo che ci siamo innestati anche nella stesura di questo nuovo documento in un cammino ecumenico, tant'è vero che questo nuovo documento non è totalmente sostitutivo dei documenti precedenti, in particolare appunto il documento sul matrimonio del 1971, ma ovviamente neanche del testo comune per un indirizzo pastorale che è stato sottoscritto con la CEI nel 1997 e poi nel 2000 con il documento applicativo. Noi nella bozza di nuovo documento riportiamo ampi stralci e del documento del 1971 sul matrimonio e di questo testo comune. vorrei leggervi una frase, giusto per darvi anche un po' il senso di questo documento e che riassume lo scopo del nuovo documento, dice la famiglia fondata sul matrimonio rimane dunque rilevante ed è disciplinata nel documento sul matrimonio appunto del 1971, ma essa non può più essere considerata forma privilegiata o addirittura unica. Da tempo la stessa Corte Costituzionale ha affermato che la stabile convivenza tra due o più persone, anche dello stesso sesso, costituisce una comunità semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico, così come prevede l'articolo 2 della nostra Costituzione. Ecco, quindi questo è un po' il quadro in cui ci siamo mossi. Resta dunque ovviamente centrale la definizione di matrimonio che appunto ricordiamo non è un sacramento per le nostre chiese, per la nostra teologia, ma è una forma particolare di amore del prossimo e dell'alleanza di grazia che lega i credenti a Dio. Cioè non è neanche la prima volta nel documento del 71 che se ne parla in questo modo, ma è ancora antecedente, quindi diciamo che abbiamo cercato di avere anche uno sguardo storico, è cioè un modo cristiano di vivere le relazioni all'interno della famiglia e non un matrimonio cristiano, cioè appunto un sacramento. Nel resto del documento si presentano e qui non mi dilungo, insomma, l'ampiezza e la profondità delle trasformazioni sociali e le implicazioni anche, per esempio, per i rapporti di genere, con un approccio a più livelli. Quattro sono i livelli, cioè quello biblico, quello teologico, quello giuridico, in cui si anticipano appunto queste nuove forme pattizie e qui c'è un richiamo alla società, perché noi siamo in una situazione di un vuoto legislativo sul fronte appunto della società e quindi per noi questo ovviamente è un elemento problematico, quindi c'è un richiamo, insomma, un invito alla società a provvedervi e poi appunto sul piano liturgico, con un'apertura che è tutta da discutere ovviamente, tutta da, come dire, affrontare insieme alle chiese locali, un'apertura alla benedizione liturgica delle coppie dello stesso sesso, così come esiste già un atto sinodale in questa direzione, ma anche una riflessione appunto alle coppie eterosessuali che non vogliono o non possono sposarsi, quindi una benedizione, diciamo, senza effetti civili. Ovviamente mettendo dei paletti, non è che poi, no, qualsiasi richiesta arrivi possa essere ricevuta e nel documento c'è una ampia articolazione che appunto, poi se interessa, possiamo magari vederne alcuni, insomma, però ovviamente non, insomma, per brevità di tempo non posso addentrarmi. Quindi per concludere questa panoramica, che spero sia stata precisa e anche se appunto non esaustiva, vorrei citare un'altra breve citazione dalle conclusioni di questo documento, al paragrafo 16, che si intitola Una comunità che si prende cura. Alla luce delle considerazioni fin qui espresse, non si tratta di mettere in discussione la centralità del matrimonio, che rimane la forma più diffusa ed importante dell'amore coniugale, ma si tratta piuttosto di includere altre forme di unioni riconosciute, accompagnate e sostenute da una comunità che si prende cura, non solo dei membri adulti che possono attraversare crisi e difficoltà, separazioni e divorzi, ma anche in particolar modo dei membri più giovani. Essi sono spesso l'anello debole in circostanze difficili e di transizione da una composizione familiare ad una successiva riconfigurazione delle relazioni nelle cosiddette famiglie ricomposte. Una vera e autentica comunità cristiana sa rivolgere parole che risuscitano le relazioni, facendo sperimentare la potenza di vita che fa sentire accolti dall'amore di Dio in un cammino di accompagnamento spirituale e nelle innumerevoli occasioni di incontro. E poi potrei continuare, ma mi fermo qui. Bene, ringraziamo Paola Schellenbaum per questa panoramica su un documento molto corposo e che mi sembra appunto abbia questa caratteristica di andare verso la pluralità, insomma proprio come Commissione Famiglie è plurale, quindi non di sostituire una cosa con un'altra, ma di verificare le nuove modalità della famiglia oggi. Vorrei ricordare anche che questo documento che è stato inviato alle chiese in vista di un loro parere per una approvazione l'anno prossimo, quindi in questo momento è un documento di studio, mentre l'anno prossimo si procederà invece all'esame in base ai risultati dello studio delle chiese e alla sua eventuale approvazione. Passiamo ora a Mirella Manocchio, alla pastora Manocchio, che ci parla invece di qualcosa di collegato, ma in qualche modo anche diverso, e cioè quest'anno il sinodo procederà all'approvazione o meno, perché ancora non è avvenuto in aula questa discussione ancora, non c'è stata, sul testo, sulla proposta di un testo di liturgia di benedizione per coppie dello stesso sesso. Quindi alla fine di questo sinodo avremo un'approvazione oppure no, insomma lo vedremo. Questo passo succede appunto in base alla decisione del 2011, quando il sinodo permise alle chiese che avessero fatto un particolare cammino di procedere alla benedizione di coppie dello stesso sesso, durante i propri culti e così via. Adesso la commissione culto e liturgia è arrivata a stilare una liturgia che diventerà poi quella ufficiale. Chiediamo alla pastora Manocchio di illustrarcene i punti. Grazie per questa opportunità, un saluto alle nostre ascoltatrici e agli ascoltatori. Sì, si tratta appunto di liturgie di benedizioni, di unioni di coppie dello stesso sesso, quindi parliamo di benedizioni, intanto sgombriamo il campo e non di matrimonio, come anche nel 2011 quando l'atto 83 fu dato un po' alla stampa, ci fu chi fraintese quella che era l'idea e la decisione presa poi dal sinodo. Qui parliamo di benedizioni, quindi qualcosa che non ha rilevanza dal punto di vista civile. L'atto che Luca aveva appunto così richiamato, volevo velocissimamente citare soltanto per chiarezza la parte che riguarda in particolare le benedizioni, dice, leggo, chiede di conseguenza, il sinodo, chiede di conseguenza le chiese che ove sorelle e fratelli della nostra chiesa o appartenenti ad una chiesa evangelica richiedano la benedizione di un'unione omosessuale, si proceda nel cammino di condivisione e testimonianza e laddove la chiesa locale abbia raggiunto un consenso maturo e rispettoso delle diverse posizioni, essa si senta libera di prendere le decisioni conseguenti, rimanendo in costruttivo contatto con gli appositi organismi. Ecco, ovviamente per poi procedere a effettuare queste benedizioni, ne sono già avvenute alcune, i pastori e le pastore hanno cercato di utilizzare qualcosa che era già presente nel nostro materiale liturgico già approvato, cercando in qualche modo di adattarlo alla situazione, però ovviamente mancavano invece delle liturgie apposite e questo è stato il compito che abbiamo ricevuto come commissione, quello di stilare delle liturgie apposite che tenessero conto un po' della pluralità delle situazioni, che tenessero conto anche della storia possibilmente, del travaglio in alcuni casi, per cui una coppia giunge a questa decisione in un certo qual senso ci si sente anche chiamata da Dio stesso e quindi abbiamo stilato due liturgie, due schemi di liturgia che contengono per ogni parte una pluralità di testi, quindi non sono testi singoli ma ci sono in alcune occasioni per alcune parti due testi, per altre parti ce ne possono anche essere tre. Proprio per cercare così potrei usare questa parola di incarnare la liturgia nella situazione, nella condizione delle persone che hanno chiesto di poter avere questa invocazione di benedizione da parte della comunità dei credenti, dalla chiesa, dalla propria chiesa e dinanzi a Dio ovviamente. Sono dei schemi leggermente diversi perché uno riguarda un culto ad hoc per una coppia appunto che voglia avere una liturgia proprio ad hoc del culto e l'altro invece si inserisce come accade già sia per le benedizioni di coppie che si sono già sposate civilmente ma anche per dei matrimoni all'interno del culto domenicale. Quindi ci sono queste due possibilità, schema A e schema B, li abbiamo chiamati così per semplicità e poi all'interno di questi due schemi le varie parti contengono come dicevo una pluralità di testi. Come aveva anticipato Luca presumibilmente stasera nei recuperi andremo a far visionare al sinodo che ha già ricevuto questo materiale quindi ha già iniziato così a visionarlo, chiederemo appunto un parere e l'approvazione. C'è già stato un parere positivo che ha permesso anche di rivedere alcune cose, di emendare dove è necessario, di sistemare dove era necessario. Insomma questa è la formulazione definitiva offerta dal corpo pastorale perché come commissione noi abbiamo presentato il nostro lavoro al corpo pastorale e il corpo pastorale tra i suoi compiti ha proprio quello di controllare e visionare le liturgie delle nostre chiese e dare una prima approvazione. Poi però è il sinodo che dà l'approvazione finale e completa per le quali poi queste liturgie divengono ufficiali. Il linguaggio, un po' come è successo per il documento nel quale anch'io appunto ho partecipato come membro dell'altra commissione, si è fatta una scelta un po' diversa da quello che era nel passato ma che invece si ritrova nelle ultime liturgie di matrimonio perché abbiamo avuto un nuovo libretto di liturgie di matrimonio. Cioè è un linguaggio forse in alcuni punti anche poetico, è comunque un linguaggio che non è asettico, ecco a volte sembra andare dentro la storia delle persone anche perché riteniamo che ci troviamo dinanzi a storie e situazioni particolari. e quindi abbiamo cercato di trovare un linguaggio che fosse aderente per quanto possibile alla realtà delle persone, di questi credenti che appunto chiedono una benedizione, vogliono che la comunità sia testimone delle loro promesse d'amore e invochi su di loro la benedizione di Dio, su questo loro cammino di vita, su questo progetto che inizia o in alcuni casi diciamo così prosegue o trova una nuova strada. Grazie alla pastora Manocchio per questa introduzione al testo che volevo solo precisare che il corpo pastorale è l'insieme di tutti i pastori delle chiese, è pastore giustamente, delle chiese metodiste e valdesi ed è un organo, l'organo teologico consultivo del sinodo, cioè se il sinodo vuole avere un parere teologico chiede al corpo pastorale. Il corpo pastorale dà questo parere che però non è la decisione ma appunto è una consulenza che viene data. Bene, a questo punto se ci sono delle domande da parte di giornalisti, giornaliste da chi è presente, questo è il momento appunto per rivolgerle. Laura Caffagnini, Vita Nuova di Parma, settimanale cattolico diocesano. Volevo chiedere se la commissione nei suoi lavori in questo anno ha così un po' visionato, si è informata sul recente, sul passato sinodo dei vescovi, quello scorso e se in questo prossimo di ottobre pensa di, non so se c'è qualche membro della chiesa che parteciperà come osservatore e come pensa che a livello ecumenico si possa interagire visto che comunque sono dei temi appunto che interessano tutte le chiese. Paola Schellenbaum. Sì, allora grazie per questa domanda. In realtà nella premessa noi citiamo anche il dialogo che la commissione ha potuto fare a distanza ovviamente sulla base dei documenti che sono stati rilasciati attraverso la stampa, li abbiamo letti, li abbiamo commentati, abbiamo notato come dire anche una maturazione tra il primo documento diciamo e quello poi successivo che è stato rilasciato. Ci sono alcuni punti in comune nel senso che ovviamente le chiese sono chiamate a come dire ad accogliere e ad avvicinarsi a queste nuove forme familiari. Vorrei sottolineare che le nuove famiglie sono le famiglie che ogni giorno riescono ancora e di nuovo ad accogliere la parola di Dio nel loro vissuto, nelle loro relazioni, nel loro quotidiano piuttosto che non pensare che le nuove famiglie siano soltanto quelle che hanno appunto delle relazioni familiari diciamo non tradizionali per utilizzare una parola che viene spesso utilizzata. E dunque non credo che siamo stati invitati come osservatori, certe che c'è stata una presenza protestante tra gli osservatori del sinodo dell'anno scorso e c'è stato poi un incontro tra questa pastora Battista, mi pare che fosse, a Roma, francese, a Roma presso la facoltà valdese di teologia, dove appunto il membro della commissione che il professor Benedetto, che è professore di teologia pratica, ha potuto appunto conversare, confrontarsi con lei. Quindi diciamo che, come dire, seguiamo con attenzione come ovviamente deve essere il cammino e le evoluzioni che appunto ci sono. Voglio anche citare un breve passo, se lo ritrovo, per dire che, come dire, questo nuovo documento è indubbiamente una novità nello sforzo insomma di elaborazione, di riflessione, ma già nel testo comune ci sono, come dire, dei passi significativi che in qualche modo ci aiutano a dialogare e a superare le differenze che ci sono tra le due chiese, insomma tra le due concezioni appunto del matrimonio. E allora, per esempio, si dice nel testo comune appunto nei casi in cui la chiesa evangelica valdese e la chiesa cattolica celebrano dei matrimoni che non sono valide secondo i rispettivi ordinamenti, cioè in cui ci sia appunto una grossa differenza, la diversità della dottrina e delle normative tra le due chiese, pur non permettendo la preparazione in comune nel reciproco riconoscimento delle nozze avvenute, come appunto può essere per la benedizione delle coppie dal stesso sesso, non preclude l'attenzione pastorale delle rispettive comunità ai nuclei domestici così formati nel quadro di un cammino ecumenico, o anche per esempio appunto alle nozze dei divorziati risposati appunto nella nostra chiesa. Chi divorzia può poi celebrare, diciamo, nuove nozze e ricrearsi una famiglia, insomma. Quindi, come dire, è già un cammino che appunto in parte condividiamo più da vicino, in parte le differenze possono comunque rappresentare un terreno comune di confronto e di dialogo aperto appunto alla, come dire, alla novità di Dio che sta sempre dinanzi a noi. Altre domande? Altre domande? Magari allora ne faccio io una un po' banale alla pastora Manocchio, ma in questa liturgia, non lo so, ci sono delle promesse che vengono fatte, insomma, quali sono per esempio i passi biblici significativi indicati? Allora, l'avevo accennato però, ribadisco effettivamente che le promesse ci sono, sono un punto importante di queste liturgie, sono state anche un punto un po' così discusso, però come commissione e poi il corpo pastorale nel suo insieme abbiamo ritenuto che le promesse fossero rilevanti nell'ambito di questa liturgia di benedizione, come lo sono in quelle di coppie eterosessuali già sposate, che hanno già quindi fatto un rito civile, perché stanno appunto a testimoniare la volontà di questa coppia di promettersi il proprio amore, reciproco amore, non soltanto tra loro due e non soltanto dinanzi a Dio, perché Dio sappiamo è ovunque, quindi ovunque uno lo potrebbe fare, ma di chiamare la Chiesa, la propria comunità, quella in quale sono in qualche modo cresciuti, hanno fatto questo percorso e questo cammino, come testimoni, ma al tempo stesso quindi anche responsabili, accompagnatori di questo progetto di vita insieme. E questo elemento dell'accompagnare, di essere responsabili e di camminare insieme alla coppia era uno degli elementi, secondo noi, di novità nel nostro documento, poi sulle, chiamiamolo famiglie, perché appunto c'è questa parte sulla cura che riteniamo essere un elemento importante, rilevante per tener conto appunto delle situazioni di fragilità, di difficoltà che possono esistere, ma anche quelle gioiose che comunque hanno bisogno, in qualche modo, che la comunità le condivida, che la Chiesa le condivida. Quindi, ecco, ci sono qui e sono un elemento che, diciamo, mette così in vicinanza il nostro, la parte liturgica con quelli che sono gli elementi teologici ed ecclesiologici, ecclesiologici, scusate, che sottende. Testi biblici interessanti, ce ne sono più di uno, ma ne cito uno, un paio, ecco. Uno dei testi, nell'invocazione, nel primo schema, nell'invocazione è Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Ecco, questo testo non è stato scelto a caso, ovviamente, perché ci dice come l'amore sia un elemento fondamentale, l'elemento caratterizzante di Dio stesso, e che questo amore non ha connotazioni nel testo biblico. E' un amore che poi si incarna nella molteplice nostra realtà umana, anche contraddittoria, anche fragile. Però appunto chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio, quindi chiunque ama e qualunque sia il tipo, diciamo, di amore che esprime, amore sano, l'amore non può essere che sano, se è veramente amore, ecco, è nato da Dio. Quindi questo testo, proprio per sottolineare un elemento che ha detto tutto un discorso tipo teologico, poi alla fine, biblico e teologico. E l'altro testo, vediamo se riesco a ritrovarlo. Scusate, perché ora, ovviamente, l'altro testo parla del patto, del patto che Dio ha fatto con il popolo di Israele. Anche se i monti si allontanassero e i colli fossero rimossi, l'amore mio non si allontanerà da te. Nel mio patto di pace sarà rimosso, dice il Signore, che ha pietà di te. Questa è Isaia 54, 10. Questo passo perché noi riteniamo che, appunto, Dio ha stipulato, usiamo questo termine, ha fatto un patto con il popolo di Israele che poi tramite Gesù Cristo si è allargato all'umanità tutta. E che questo patto rimane fermo e valido, benché noi siamo infedeli in questo patto. E che il patto che Dio ha fatto con l'umanità e poi, come dire, l'impronta e l'orizzonte nel quale si scrivono i nostri patti, i patti umani con la fragilità e l'imperfettibilità, ovviamente, che ci contraddistingue, però hanno quell'orizzonte, hanno quell'elemento, ecco, che li mantiene saldi. Se sono patti, ovviamente questo per chi è credente, non parliamo di persone che non hanno la nostra visione di fede, ma chi ha la visione di fede, noi riteniamo che il patto che Dio ha stipulato con l'umanità, ha fatto con l'umanità un patto d'amore, sia l'orizzonte nel quale si scrivono i nostri patti d'amore, quindi anche quello delle coppie, dello stesso sesso. Bene, grazie. Ringraziamo Paola Schellenbaum e la pastora Mirella Manocchio che hanno animato questa conferenza stampa. Salutiamo gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Bequite Evangelica e anche di Radio Voce della Speranza Firenze. domani è la giornata conclusiva del sinodo, alle ore 15 è previsto il discorso del moderatore e dopo il discorso ci sarà una conferenza stampa con il moderatore. Quindi arrivederci. Grazie a tutti.